Che vi siete prefissati. Cerchio e seno attraverso N.T. Amedeo. Miei diletti figli, le vostre parole giungono a noi come una preghiera, ma ricordate. Dovete vincere la battaglia che vi siete prefissati, che avete accettato come prova. Non cercate di volare in alto come l'aquila, ma camminate a piccoli passi e conquistate la vostra esistenza giorno per giorno. E' così che vincerete la vostra battaglia. Questo è importantissimo per la vostra evoluzione. Rasserenate quindi il vostro animo, siate tranquilli e ogni giorno sappiate di aver compiuto un piccolo passo. Fate quello che potete per i vostri simili e non cercate di fare cose che sono lontane nel tempo e nelle vostre attuali possibilità.